Non si ferma la mobilitazione della Will Pensionati contro la manovra del Governo che porterà tagli di circa 450 euro a causa del blocco della rivalutazione delle pensioni previsto dalla legge di bilancio 2023. A fronte di questo abbassamento degli assegni, il caro vita incide negativamente sullo stile di vita del 95% dei pensionati, sottolinea il sindacato. La Will Pensionati, evidenza il segretario generale della Sardegna, Rinaldo Mereu, vuole mantenere alta l'attenzione su questa ingiustizia. Il taglio a rivalutazione, deciso oltretutto in un momento di forte crescita dell'inflazione, interessa circa 500.000 pensionati in Sardegna. Non è possibile che ogni volta che servono risorse si vadano a prendere dai pensionati, sottolinea il segretario Mereu. In Sardegna i pensionati sono complessivamente 472.053 e prendono mediamente 804 euro di pensione. Con importi così bassi per i pensionati sardi l'aumento del carrello della spesa incide moltissimo. A questo, sottolinea il sindacato, si aggiungono le enormi difficoltà di erogare nell'isola servizi adeguati, soprattutto nelle zone dell'interno. Carenza dell'assistenza sanitaria sul territorio anche per mancanza di medici, lunghe liste d'attesa, carenza di alcuni medicinali importanti. Intanto, per contrastare le scelte del governo Meloni, la Will Pensionati ha avviato a livello nazionale 5 cause pilota contro il taglio della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo IMSS, pari a 2.101 euro mensili lordi, disposto dalla legge di bilancio 2023. L'obiettivo è quello di ottenere dalla Corte Costituzionale una pronuncia per sancire l'illegittimità costituzionale dell'articolo di legge che ha previsto il taglio a rivalutazione. L'obiettivo è quello di ottenere dalla Corte Costituzionale.